Ciao a tutti, io sono JJ di Wondershare Filmora, qui per migliorare il tuo talento di creatore di video e ho alcune notizie interessanti da condividere con voi. Wondershare Filmora 10 è arrivato! Proprio così, grazie al vostro aiuto, abbiamo ripensato Filmora per includere alcune nuove fantastiche funzionalità che vi aiuteranno a creare video incredibili in modo più veloce e divertente. Utilizzando il Motion Tracking è ora possibile seguire automaticamente il movimento di un elemento nelle clip e applicare qualsiasi tipo di effetto visivo per seguirne il movimento. Volete creare animazioni personalizzate? Ora potete fare tutto questo facilmente utilizzando i fotogrammi chiave. La versione 10 è dotata anche di altre funzioni che consentono di risparmiare tempo, come la corrispondenza automatica dei colori, per aiutarti a trovare la corrispondenza del colore dei tuoi filmati ad altri filmati. Per aiutarti a sfumare rapidamente la musica, in modo da far risaltare i dialoghi, abbiamo aggiunto una funzione chiamata Abbassamento Audio. E per una maggiore personalizzazione è ora possibile impostare le proprie scorciatoie da tastiera e scegliere l'area di lavoro sia in modalità scura che in modalità chiara. Ora è il momento di fare una cosa divertente, è il momento di ri-immaginare te stesso diversamente, creando contenuti diversi per il tuo prossimo video. Come diventare un creativo usando Filmora 10? Sarai un blogger? Farai recensioni di trucchi? Farai recensioni tecniche? Le possibilità sono infinite. Condividi il tuo video con noi usando l'hashtag FilmoraReimaging. Se hai una licenza Filmora, la versione 10 è completamente gratuita. È possibile scaricare la versione 10 su filmora.wondershare.com. Link nella descrizione qui sotto. Ricordati di iscriverti e di fare clic sul pulsante del campanello di notifica per vedere i prossimi tutorial dove vi spiegheremo ciascuna delle nuove funzioni in dettaglio. Continuate a creare e ci vediamo la prossima volta. Ciao!